Tour, a Monument Valley. Canalizzazione 1. 12, 18 aprile 2017. Saluti miei cari, sono Crayon del Servizio Magnetico. Per coloro che ascoltano e che non sono qui, questo è il messaggio iniziale dal posto che voi chiamate Monument Valley. Risuona con l'amore della Terra. È bellissimo. Ed il gruppo costituito da coloro che sono di persona con me, ne farà esperienza, vedrà e percepirà. Vi è davvero poco cemento qui, state camminando sul terreno. La meditazione che ha preceduto questa canalizzazione era di parole che vi ho dato in passato, di sentimenti che fanno eco a quelli del passato su coloro che hanno vissuto qui. E che hanno vissuto qui centinaia e centinaia di anni. Prima che chiunque altro venisse qui. E voglio parlare di questo brevemente. Vi è un'alleanza con Gaia che è possibile oggi. Tutto il cambiamento del quale abbiamo parlato ha degli attributi di risveglio, di apprendere nuovamente cose che gli antichi conoscevano. E non potete semplicemente andarvene dalla città, perché lì è dove esistete e dove ci sono le vostre famiglie, così ci deve essere un modo in cui l'alleanza con Gaia funzioni per voi. Ancora meglio ora che allora ed è quello di cui desideriamo parlare. L'alleanza con Gaia è una coscienza, e non significa che voi dobbiate essere in un certo posto. Ma è qui che voi potete avere il pieno godimento, se volete dire così, dell'energia del posto mentre vi parla. Mentre vi vuole parlare. Forse anche nella memoria. Voglio che sappiate che l'alleanza che avevano gli antichi è quello che noi desideriamo sia riacceso in questo grande cambiamento. E questo è qualcosa che sarà ripetuto più volte nei messaggi di Crayon. Mentre andrete avanti in questi giorni e vedrete la magnificenza di come Gaia possa apparire. Entrare forse un po' di più in quello che è accaduto qui. Ma il risultato oggi, qui, mentre lo guardate è magnifico. Questo è il modo nel quale anche gli antichi guardavano adesso. Essi conoscevano la sacralità di questo posto. Cosa significassero per loro i monumenti? I nomi che gli avevano dato. E tutto quanto a proposito dell'amore di Gaia. Era la loro compagna. E questo non è qualcosa che potete ottenere oggi facilmente, anche per gli operatori di luce. È il collegamento mancante. E deve essere riaccesso. La seconda cosa di cui voglio parlare è l'elefante sotto il tavolo. Ci saranno molti che forse ascolteranno questo ed è persino controverso. Ma è una delle cose che dovete conoscere per quello che è avvenuto qui e per il residuo nella griglia cristallina. Gli antichi stavano bene, fino a che sono giunti i conquistatori. Ed in tutto il mondo trovate delle similitudini con quello che è accaduto qui. Che l'emisfero conquistatore fece il suo lavoro ancora una volta, persino nel suo proprio emisfero e conquistò questa terra. Quello di cui voglio parlarvi è della mentalità, di quello che è accaduto e di cui la terra parla ancora oggi. Miei cari forse sapete che gli antichi non avevano la proprietà della terra, infatti il concetto è a loro estraneo, è troppo lineare. Infatti è infantile. Loro non ve lo diranno perché è un insulto e non vogliono insultarvi. Ma loro non conoscono il concetto di proprietà. Quando osservavano l'orizzonte esso apparteneva a loro. Se vi erano disaccordi, forse persino guerre tra gli antichi, erano per le risorse, ma non sulla proprietà. Avevano compreso che Gaia era una compagna, che era viva, che essa era loro stessi. Non ne avevano la proprietà. Non disegnavano linee che dicevano. Non attraversare questo, cioè mio e non tuo. Non lo segmentavano in particelle registrandolo in qualche biblioteca. Così quando i conquistatori vennero, l'idea di chi possedeva cose non entrava nemmeno nella loro coscienza, era difficile per loro relazionarsi con una coscienza più bassa. E perciò vi dirò qualcosa che non si dice molto spesso. Loro vedevano i conquistatori come selvaggi. Selvaggi con tecnologia più avanzata, e questo è quello che dicevano. Perché i selvaggi non avevano cognizione della gloria e della bellezza di Gaia, che nessuno poteva possedere. Voglio che riflettiate e pensate su questo. Perché il risultato è il terzo argomento che voglio toccare. Il risultato è che questa terra ha tristezza. Non dolore, ma solo tristezza. La griglia cristallina ha tristezza e se voi guardate questo, e di vostri occhi colgono tutta la magnificenza, pensate a voi stessi come un antico, che era abituato a dire. È aperto a tutti. Questo ha creato tristezza. L'invito per tutti gli ascoltatori e per tutti coloro che sono qui è di iniziare a riscrivere questo. Nel cambiamento che ha avuto luogo in una celebrazione miscelatela con il perdono con la compassione, e risvegliate la tristezza e riscrivete la griglia cristallina ovunque camminiate. Questo è uno degli attributi per cui siete qui. Infine, io so che non tutti voi siete venuti per la canalizzazione, io so chi è qui. E voglio dirvi che tutto quello di cui parliamo è semplice, sia che crediate o meno in ciò che sta accadendo, il messaggio è qualcosa su cui riflettere. L'amore di Dio è qui. Conosce il vostro nome. Sa cosa è successo qui. Ed è pronto ad accelerare l'energia ad ogni livello che voi desideriate. Semplice. Nulla a cui unirsi, nulla a cui appartenere. Nessuna dottrina, nessun profeta. Solo messaggi di bellezza dal creatore di ciò che state guardando proprio ora. E questo è il messaggio per iniziare questo viaggio. Ed è uno buono. Continuiamo. E così è.